Ma ciao a tutti ragazzi, ma bentornati agli acquisti fumettosi, oggi è domani, lunedì, martedì, no ragazzi questa settimana gli acquisti fumettosi ve li beccati oggi perché venerdì, sabato e domenica sono andato a Lucca Collezionando, trovate tutti i video che ho fatto negli shorts e in più trovate la live che abbiamo fatto in diretta dalla sala conferenze di Lucca Collezionando con gli Oscar Zagoriani e tutti i disegnatori, ospiti, una mattinata, un'ora e mezza veramente veramente belli e adesso partiamo perché abbiamo gli acquisti fumettosi ma soprattutto la chicca della chicca, la cosa più abbiamo il bottino di Lucca Collezionando Poche miglia a sud di Soledad, il Salinas capita sotto le falde dei colli dove scorre verde e profondo, l'acqua è anche tiepida perché è sgusciata sfavillando sulle sabbie gialle nel sole prima di giungere alla stretta pozza. Su una riva del fiume i pendii dorati del contraforte salgono dolcemente ai monti Gabilan, forti e rucciosi. Ma a valle l'acqua è orlata di piante, salici verdi e novelli ad ogni primavera, ingombre le forche dei rami bassi dal tritume della piena invernale e sicomori dalle candide e screziate braccia penzolanti e dalle fronde arcuate sulla corrente. Sulla riva sabbiosa sotto gli alberi giacciono le foglie disseccate in strato così alto che la lucertola fa un grande trapestio correndovi in mezzo. I conigli escono dalla macchia a sedersi sulla sabbia nella sera e le radure acquitrinose sono disseminate delle tracce notturne dei tassi, delle larghe e zampate dei cani dei ranch e delle orme a cuneo dei daini che vengono a bere all'ombra. Intanto voglio dare il benvenuto perché siamo a 10.200, siamo a 10.200 quindi continuiamo a crescere. Benvenuti, benvenuti sul canale, vi abbraccio idealmente tutti quanti. Come dicevo allora abbiamo gli acquisti normali della settimana, dopodiché abbiamo il bottino di Lucca. Nel bottino di Lucca ci sono delle cose, ragazzi, ci sono delle cose strepitose, ci sono delle cose strepitose nel bottino di Lucca. Che sta a fare? Vabbè. Vi volevo far vedere intanto una piccola chicca che mia moglie ha trovato all'imbraccio al 50%, molto molto bello. La Mondatori ha ristampato un'edizione americana di classici degli anni 80 per bambini, per imparare a leggere, facilitati eccetera eccetera. Molto 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 carino questo di Ritorno al Futuro, ma c'è anche E.T., Gunies eccetera eccetera. Molto molto carino, vi faccio vedere solo dentro come ha fatto. Guardate Martin che va a... Oddio, guardate la madre e il padre da grandi. Ma che spettacolo! Devo dire che se c'è dei bambini o qualcuno che è in età da inizio lettura eccetera eccetera, guardate che belli i marti... Aspettate, dove li ho trovati? Dove stanno? Mi sono perso Marti McFly, con Giuseppe McFly, con Antonio McFly. Oh eccolo qua, vi voglio far vedere, guardate? Ha ha, è bellissima vista! Il libro è illustrato da Kim Smith, molto 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 cortocari. Era una... Era una geek, e beh la volevo far vedere, quanto c'è Marti e Latte Lorian, è sempre un piacere. Dopodiché abbiamo il Nathan Never numero 394, l'essenza dell'infinito. Un'altra bellissima copertina di Giardo, eccolo qua, molto molto bello. Dentro abbiamo soggetto e sceneggiatura Davide Rigamonti, Mario Yanni, ai disegni splendidi, i disegni di Yanni. Eccoli qua. Una sniffata, ci sta sempre in... Eccoli qua. Sempre grandissimi i disegni di Nathan Never. Dopodiché vi faccio vedere anche la copertina del prossimo numero, che sarà Inferno Verde, che sarà il numero 395. Eccolo qua, bello 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 bello. Nathan Never, eh beh. Poi abbiamo il Topolino numero 3565, la magia raccontata da Topolino. C'è anche il solito libro cartonato, andiamo ad aprirlo. Topolino diventa libro. Questa è una bella collezione, mi piace molto, ce li ho tutti e mi piacciono veramente molto. Eccolo qua, con l'introduzione di Silvan, no, con l'introduzione di Raul Cremona. Ve lo ricordate? Con la sola imposizione delle mani posso ungervi la giacca e la camicia. Grande Raul Cremona. E dentro ovviamente, dopo una sniffata, ci sono storie varie che hanno come argomento la magia. E quindi abbiamo storie di Scarpa, Carlo Candy, Silvio Camboni. Ah, bella questa di Silvio Camboni. Carlo Candy, Osvaldo Pavese, eccetera, eccetera. Molto bello, e che adesso, stavo notando adesso, Topolino è il villino di sogno. Topolino, 1061, del 28 marzo 1976, sceneggiatura e disegni di Romano Scarpa, inchiostri di Sandro Zemolin. Oh, che bello. Ma quant'è che inchiostra Zemolin? Da sempre. Cioè, sta storia è del 76. È del 76 questa storia. Questa solo ve le faccio vedere qualcosa. Che bello che adesso scrivano che inchiostra. Anche se è una ristampa, finalmente. Quindi che vuol dire che se ristampano quelle di Giorgio Di Vita, compare pure il tuo numero. Il tuo nome? Eh sì. Il tuo numero no, sennò ti chiamano. Il tuo nome? Il tuo nome sì. Il tuo nome no. Il tuo nome sì. Dovrebbe? Il tuo nome forse. Guardate, Romano Scarpa, inchiostrato da Zemolin. Eccolo qua. Bello, bello, bello. Mi piacciono sempre tantissimo questi volumi cartonati. Mi vedete lo scarto. Eh sì, eh sì, eh sì. Molto, molto, molto bello. Però qui abbiamo il tovolino con una splendida copertina. Io immagino di chi sia la copertina. Ah no, di Davide Cesarello. Pensavo, visto che la storia è di Gervasio, che fosse sua. Molto bella la copertina di Davide Cesarello. Eccola qua. Con i retini. Sì, sembra. Vero? Cioè, dal... È fatto al computer. Sì, no, nel senso, da effetto, effetto retinato, effetto, è molto, molto, molto bella. Vi faccio vedere che aria tira a topolinia. Oddio, un'aria spaziale tira a topolinia. Fate fermo immagine, così vi leggete per bene che aria tira a topolinia. 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 Poi abbiamo qui i videogiochi. Volevo vedere il... Eccola qua, molto, molto bella. Lo schizzo preparatorio della copertina di Cesarello. Contanto di firma. Eh sì, è giusto. Giusto che sia. Oh, abbiamo la prima puntata. Aspettate, non so se è la prima puntata o se è tutta in questo numero o se sono vedi e puntate. Pundate, puntate, puntate, vingete. Profondo blu. Ah, no, è secca così. È secca così. Profondo blu. Abbiamo soggetto, sceneggiatura, disegni e supervisione al colore di Marco Gervasio. La ciurma del sole nero. Quindi continua la ciurma del sole nero. Un Gervasio in grande spolvero. Bello. Bello, 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 bello. Vi faccio vedere ancora qualcosa. Mamma mia che colori. Eh? Belli. Molto, molto, sì. Molto, molto bello. Poi abbiamo una storia in due parti. Zio Paperino e la terribile banda Bassotti. Soggetto e sceneggiatura Vito Stabile. Carlo Limido ha i disegni. Guardate che belli. Anche qui i colori la fanno da padrone. Che bello Paperone. Eh sì. Lo zio Papero. Fine primo episodio. E poi c'è il secondo episodio. Eccolo qui. Guardate il deposito. Che si staglia nella notte paperopolese. E quindi ci sarà il One More Thing in questa puntata. È un One More Thing lucchese. Quindi ragazzi, cioè alla fine ci sarà tanta tanta roba ragazzi. Delle cose da perdere la testa e da perdere gli occhi e da perdere il senno. E quindi rimanete fino alla fine. E quindi da perdere il senno. Il senno. Oh, qui c'è gamba i denti kit per imparare a disegnare. Lo sai che ho letto una cosa e non ci ho mai fatto caso? Cosa? E che animale è il gamba di legno? Un gatto. Eh, io dopo. Ma come? Non lo sapevi. A 54 anni. Non è che non lo sapevo. Non ci ho mai riflettuto. Ma come? È il gatto, è il topo. Eh sì, ma non è... Sai quelle cose che realizzi e ti svegli una mattina e dici... Comunque grazie a Francesco Di Polito per... Che rimbambito. ...la parte. Paperino Paperotto e il magico mondo della fattoria. La mappa del tesoro. Soggetto e sceneggiatura Davide Icardi. Oh, Giada Perissinotto ha i disegni. Guardate che splendore le tavole di Giada Perissinotto. E' una donna, di nuovo. Guardate che bello. Un carino. Quanta cura. Quanto dettaglio. Devo dire che Paperino Paperotto è entrato a far parte della sfida. Eh? Ognuno vuole fare il Paperino Paperotto più bello degli altri e noi lettori ci guadagniamo. Madonna, non sembra nemmeno una storia di Paperino Paperotto. Perché? No, è perché, vedi che no, con tutte le vignette cosate, tutto, eh, devo dire che... Il colore monocromatico è una fada padrona. Eh, sì. Veramente un lavoro eccezionale della Perissinotto. Assolutamente. Dopodiché abbiamo Giulio Qualtieri, soggetto e sceneggiatura, Marco Mazzarello, ai disegni, Paperina e Paperino e il club della racchetta. Anche qui. Molto variegata. Molto variegata. Molto variegata. E poi era l'ultima, sì, era l'ultima. E allora... Ah, no, no, c'è Battista Maggiordomo Esistenzialista Test. Eccolo qua. Che, insomma, ci sono queste tavole monografiche di Carlo Limido e Roberto Gagnor e Simone Tempia. Eccole qua. Che, se non sbaglio, tutte queste storie monotavola, dovrebbe uscire un volume, ho visto che esce un volume. No, ma che faccia c'ha il topo qui? Dove? Qui. Nella prossima copertina. Dovrebbe essere raccorto in un volume con tutte le storie battistose. professione eroe di due mondi. Facci vedere come si disegna gamba di legno. Facci vedere come si disegna gamba di legno. Ecco qua. Vediamo un po'. E poi, bravo, ve lo avete comprato, Colino. Qui si escrocca a niente. Dopodiché abbiamo Tex Wheeler, la lista della vendetta. È il numero 65. Ed eccolo qua. C'è il ritorno della mano rossa. Ma, soprattutto, si congiunge la storia del giovane Tex Wheeler con il primo Tex di Gianluigi Bonelli. Quindi è un momento storico per la serie Tex Wheeler. È il secondo episodio. Il terzo sarà questo qui, appunto, ultimo atto. Alla sceneggiatura abbiamo, ovviamente, Mauro Boselli. Ai disegni abbiamo disegni splendidi di Marco Ghion. Se volete sapere di più, giovedì scorso, al salotto, c'era proprio Marco Ghion con il quale abbiamo parlato di questo trittico di Albi con il ritorno della mano nera. Vi faccio vedere ancora. Guardate che bella questa sequenza nelle grotte. Guardate che roba. Qui c'è tanto lavoro, tanta maestria, eh, ragazzi? Veramente tanta, tanta, tanta roba. Volevo fare di nuovo un salotto tutto in rosa? Eh, sì, però mi dispiace dover fare un salotto in rosa. Capito? Vorrei che le donne venissero tutte. No, 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 non lo so. Però pure a Lucca... Quante donne ho nominato? Eh, ma pure a Lucca. Io le ho invitate. Tutte le disegnatrici che ho trovato le ho invitate. Eh, non vengono. Ma che devo fare? Sono poche. Eh, sì, ma anche quelle poche non vengono. Eh, ma che posso fare? Donne disegnatrici, venite perché vi attendiamo. Numero 184 del Classic Tex, lotta senza quartiere. Eccolo qua. E abbiamo Bonelli Galepini, che è più classico, non si può, ragazzi. Bonelli Galepini, guardate che roba. Mamma mia, mamma mia che splendore. Bonelli Galepini, ti fai due grappini. Il prossimo sarà il 185, si chiamerà... Dente per dente. Dente per dente, nel senso che è un dente ed è per dente, o che il dente per dente, cioè che se dai un dente... Dategli una botta in testa. Va bene. Poi abbiamo il piccolo ranger, l'albero della morte, è il numero 95, con una fantastica copertina di Franco Donatelli. Facciamo godere anche la camera woman. Però, eh, fammi da pure... Ah, è una sniffata a me. E vi faccio vedere gli splendidi disegni del piccolo ranger, in questa versione grande e a colori. Merita. Merita assolutamente. Mentre il prossimo, il numero cento... No, il numero 96... La lettera rivelatrice. C'è pure un nuovo impiccato, vabbè. Eh? C'è pure due gambe di un impiccato. Eh sì. Eh sì. Bella copertina pure questa. Ah beh. Ah beh. Bella copertina. Poi abbiamo... Siamo quasi vicini alla conclusione. Abbiamo il numero 198. I razziatori. Sto parlando del comandante Mark. Del comandante Mark. Vi faccio... Vediamo se già ci sorprende con la prima tavola. Ma Diabolica mi ha comprato. Bella, guardate che bella prima tavola. Guardate che tavola d'apertura. Tiè. Bella. Beccate, facciamo godere anche un po' la camera woman. No, questo profuma di più. Eh sì. Diciamo, ma Diabolica me l'hai comprato? Diabolica? Inizio me l'ho comprata, mo'. Siamo al 25. Esce il primo, Diabolica. Eccolo qua. Guardate che splendore i disegni di Mark della SGS. Tanta, tanta roba. No, guardate qua. Guarda qua. Guarda qua. Guardate che splendore, ragazzi. Quanta maestria, ragazzi. Quanta maestria. Invece, per il numero 199, abbiamo... Destinazione ignota. Ignota. Sto figlio di madre ignota. Allora, dopodiché abbiamo con... Aspettate, fatemi leggere i crediti che mi intriga questa cosa. Fatemi leggere i crediti. Dove stanno i crediti qui? Dove stanno i crediti qui, ragazzi? Ci fa vedere di che cosa? Adesso ve lo faccio vedere. Allora, director, grafici, coordinamento, amministrazione, desiderio, ufficio legale, advertising. Ah, eccoli qua. Ce l'hai fatto. Realizzazione editoriale così. Testi, Luciano Costarelli e tutti gli altri. Direttore responsabile, Luca Sprea. E insomma, c'è lo zampino molto, molto prepotente del nostro... Vi ricordate un po' di tempo fa era uscito retro computer, un numero secco, eccetera, eccetera. Ha avuto talmente tanto successo, visto l'ottimo lavoro di Costarelli e di tutti coloro che realizzano questo numero, che è uscito il numero uno ed è diventata una rivista fissa. Eccolo qua. Guardate. In questo numero abbiamo ZX Spectrum Next, in difesa di E.T. Davvero è il più brutto videogioco di sempre? Ha causato solo crisi nei videogiochi? Scopriamolo sul serio. Gli Adventure scritti, Compact Portable, Control Alt e poi le associazioni, guida le associazioni di retrocomputing italiane. E poi abbiamo Atari, magari, oltre ai videogiochi, inventò anche gli home computer. E poi, la cosa più importante del numero, uh, dal Mac all'iMac, il primo Mac Tintone dell'84 è la sua rinascita nel 98, ma soprattutto abbiamo una cosa che mi riguarda da vicino, che è Sesso a 8-bit. Eccolo qua. Con lo strip poker di Samantha Fox. Ragazzi, chi c'ha una certa età, se ricò, se ricò, se ricorda, se ricorda. Facciamo la censura alla puntata, va? Eh sì, la censura toccherà veramente, la puntata toccherà veramente puntatarla, la puntata toccherà veramente censurarla, perché una delle cose che ho recuperato da Lucca, e non so come farvela vedere, ragazzi, non so come farvela vedere, perché è bellissima, ma è una caciara. Magari farò un passaggio veloce, non lo so. E allora, adesso, questa, gli acquisti fumettosi, gli acquisti dei fumetti, quelli di settimana, sono finiti, ma ci sono i recuperi di Lucca. Madonna mia, che ve faccio vedere. E quindi, senza indugi, senza indugiare oltre, one more thing. E se siete ancora qui, vuol dire che siete curiosissimi di sapere che cosa ha portato da Lucca. Guarda la roba, guarda la roba, guarda la roba, guarda la roba, spettacolo. E quindi, tanta, tanta roba, cose splendide, e quindi partiamo immediatamente a farvi vedere che cosa abbiamo recuperato a Lucca. Allora, intanto, c'era questo numero uno che mi aveva incuriosito, perché la copertina è di Simona Simone, ma c'è anche Bianchini, in mezzo, Santarelli, direttora generale di Alessandro Federici, però c'è direzione artistica di Marco Bianchini, e copertina di Simona Simone, sceleggiatura Marco Bianchini, e disegni di Dario Santarelli. Disegni di Dario Santarelli. Sto parlando di Texa. Eccolo qua, numero uno. Non c'entra niente Tex con Texa, perché è una soldatessa, e anche messa bene, non c'entra niente, e quindi mi incuriosiva, perché ci collaborano persone che ammiro e che stimo, e questa non la posso far vedere manco su Texa, e quindi vi faccio vedere qualcosa di Texa. Ecco qua. Eccolo qua. Eccolo qua. E vi faccio vedere ancora qualcosa di Texa. Il numero due uscirà ad aprile 2024. È un'edizione AF Creative. AF Creative. No, AF Creative, perché è italiana. Attenzione. A me. Va bene, non posso far vedere. Ulala. Ulala, ulala. Ma che bella tu pare. Allora, poi... Sti uomini, le danne solo per quello. Ma sì. Ah, nei fumetti... No, dico, ma sì, che è continuato a dire così, ma tanto non è vero. Ma nei fumetti è così. Dopodiché mi ha contattato, cioè mi ha incontrato Gianluca Lamedola, che mi ha fatto omaggio, e ne sono molto grado, e verrà una sera al salotto a parlarcene, perché lui ha scritto un saggio su The Promised Neverland, il manga che ha avuto uno strasuccesso, l'immaginario letterario di Kayu Shirai e Posuka Demitsu, società editrice La Torre. Eccolo qua. Eccolo qua. E quindi è appunto un saggio su questa serie manga di grandissimo successo. Chi l'ha letta può... sa di che cosa sto parlando, insomma. Sa di che cosa sto parlando. e ci sono anche delle immagini tratte dal manga, però ovviamente è un saggio, e quindi troverete tutto ciò che c'è scritto nel manga. Tre manga che hanno suscitato il maggiore interesse negli lettori negli ultimi anni The Promised Neverland. Grazie a Gianluca Lavendola, e lo aspettiamo presto al salotto per parlarne. Dopodiché, un'altra cosa che mi è stata data in omaggio, e anche qui arriverà il video, faremo un video insieme, perché ho conosciuto Thomas Pistoia e Emilio Guazzone, che hanno scritto Un Fiore Rosso per la Libertà, edito da Edizioni Volier, o Volier, se è alla francese, o se no, è Volier, o Volier, insomma, associazione culturale. Devo dire che è un bel prodotto, anche ben curato, ve lo faccio vedere la copertina, ed è la storia, ve lo leggo da qui, a un giornalista americano che nell'euforia della liberazione di Firenze le chiese cosa avrebbe fatto in quei giorni, presagendo chissà quale impegno politico e sociale, lei con la sua intelligente ironia di ragazza, rispose solo, ora voglio andare a ballare. Stiamo parlando di una delle più importanti, almeno questo è quello che avevano detto gli autori al volo così, di una delle più conosciute, delle più importanti partigiane per la liberazione di Firenze. E quindi questa è una graphic novel che parla di storia, che parla di un argomento che fa parte della storia del nostro paese, e quindi mi ha incuriosito molto, li ringrazio per avermelo dato, lo leggerò e li aspetto, faremo un video magari dedicato, perché insomma è un argomento importante, ha una profondità particolare, quindi faremo un video insieme, e poi magari verranno anche al salotto per parlarne, magari parlarne con i colleghi, parlarne tutti insieme, in una live più corale. e quindi dopo ci sono anche dei contenuti extra, quindi degli approfondimenti, delle foto storiche, quindi insomma veramente veramente un bel volume, veramente un bel volume, e non vedo l'ora di approfondire con gli autori. Poi ringrazio Stefano Fantelli, che ha lo stand di Catap, mi ha omaggiato di Alfredo Castelli, Daniele Fagarazzi, Massimo Bonfatti, Zio Boris, La Nuova Degenerazione, le tavole di Zio Boris, pubblicate da Martin Mister. Molto 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 bello questo volume, chi legge Martin Mister sa di che cosa sto parlando, eccolo qua, perché alla fine c'è sempre una tavola autoconclusiva di Zio Boris, Zio Boris, molto molto carine, eccole qua, molto molto molto, quindi Catap, c'è un tanti tanti volumi di Catap, anche con Catap e con Stefano Fantelli faremo un bel video per Julian, il fumetto che è stato creato da Carlo Lucarelli e Stefano Fantelli, e creato graficamente da Marcello Mangiantini, quindi insomma, guardate, da Marcello Mangiantini, quindi ottimo lavoro di Catap, che fa delle cose veramente belle, questa è veramente, veramente una bella edizione, quindi grazie, grazie davvero, e anche qui arriveranno approfondimenti. Dopodiché, dopodiché, io non posso non ringraziare William Bondi per avermi fatto omaggio di questo suo artbook, chi segue il salotto l'ha visto, ne abbiamo parlato, e William Bondi è un mostro, e fa delle cose eccezionali, questa è la copertina, l'avevamo già fatta vedere al salotto, e aspettate, perché qui, ragazzi, qui tocca trovare delle immagini che... Dove trovi le immagini? No, vedete, c'è tutta una parte, c'è il macello qui, ecco, forse questo è un po' meglio, no, 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 e ragazzi, ci sono delle cose strepitose, calcolate che questa, questa è la parte più castigata, fate fermo immagine, fate fermo immagine, se no ci chiudono il canale, però ragazzi, un artista è incredibile, e le sue pin-up sono qualcosa di stratosferico da perdere la testa, ragazzi, sono qualcosa di incredibile, però fidatevi, anzi, non vi fidate, scrivetegli, e chiedete informazioni se ne ha ancora di questo artbook, perché, ecco, forse questa è già una parte più che forse si potrebbe far vedere, no? No, è il macello qui, ragazzi. Eh, no, niente, non le puoi far vedere, però guardate, questa me la posso far vedere, questa è una delle mie preferite in assoluto, guardate, Grace Kelly nella finestra sul cortile, guardate che splendore, William Bondi è fenomenale, ma non solo, non solo mi ha omaggiato dell'artbook, e quindi io non ho parole, eternamente grato, eternamente grato, veramente strepitoso, ma, ma dentro, da incorniciare ovviamente, c'è anche questo qua originale, cioè, ragazzi, io non ho parole, non ho parole, ripeto, veramente, un fenomeno, un fenomeno, grazie, grazie di cuore, contattatelo se siete interessati, perché forse ne è ancora qualcuno, dopodiché, grazie a, oddio, adesso faccio delle figure, siamo stati più volte insieme, in quei due giorni ci siamo incrociati, abbiamo parlato, eccetera, eccetera, ma ho visto troppe, troppe persone, anzi, questo è che qui ho tre pezzi d'arte eccezionali, che cosa mi porto dietro a questo look? Tanti disegnatori, tanto affetto per me, per il salotto di Sheldon, per il tre chiacchiere, per il canale da parte dei disegnatori, degli autori, veramente, veramente, mi ha riempito il cuore, girare, stringere mani, salutare, incontrare, veramente, non, io sto, sto vivendo un sogno, perché, chi se ne frega delle visualizzazioni, chi se ne frega dei cosi, chi se ne frega di tutto, il, il, il rapporto che si è instaurato con gli autori, con i disegnatori, e con il mondo del fumetto, è, è, è il mio sogno che si realizza, è, è, è una cosa bellissima, insomma, quindi questo è quello che mi porterò nel cuore, eh, per sempre di questa look a collezionando, e, uno di voi, e me perdonerà, non, non mi ricordo, eh, Alessio forse, non lo so, mi pare, non lo so, perdonami, lo so, non è una questione di, di, di mancanza di ecche, io non mi faccio, faccio, no, no, non mi faccio, ho sempre fatto un gran casino, ma soprattutto, voi siete stati tantissimi a venirmi a salutare allo stand, avete rinnovato l'associazione, avete ritirato le cartelle, però, eh, con lui abbiamo più volte, insomma, ho fatto anche questo favore, quindi, le perdonerà doppiamente, se in questo momento non mi viene il nome, dallo stand di Alessandrini, questa bellissima litografia firmata, con dedica, a mano, eccolo qua, dedicato, guardate che bella, questa, è una limitata a 100 pezzi, Giancarlo Alessandrini, associazione culturale, Amis, Luca collezionando 2024, copia 54 di 100, grazie, grazie perché, che mi hai fatto la fila per me, ti sei fatto fare, cioè, l'hai fatta per te, ti sei fatto fare anche la, quella per me, bellissima, il ricordo di Alfredo Castelli, e sempre lui, ha lo stand del gruppo Tex 2011, sempre per 8 bit, e da Maio, quindi Mario Rossi Maio, guardate che splendore, bella, 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 anche questa, è una stampa speciale, fatta per Luca, collezionando 2024, mamma mia, che bello, e poi ragazzi, mettetevi seduti, mettetevi seduti, perché qui abbiamo, questa, è, una, delle, è una, delle, copertine, scartate, di bandera, di Alessandro Piccinelli, questa è una delle copertine scartate, poi, la guardi e dici, come scartata, cioè, guarda che roba ragazzi, con uno Zagor in primo piano, e un Tex giovane dietro, e uno Zagor più grande, e un Tex giovane dietro, ma guardate che roba, mamma mia, e, non so veramente, che cosa dire ad Alessandro Piccinelli, e, questo, le altre due, insomma, mi toccherà comprare un po' di cornici, con un'estrema gioia, e, per, per dare una degna esposizione dentro casa, sta quantificando il posto comunque, stiamo finendo le pareti, per fortuna, grazie a Dio stiamo finendo le pareti, però, finché ci sono, le appendiamo, e quindi, niente, una lucca collezionando strepitosa, dalla quale, ovviamente, usciranno cose eccezionali, eccezionali, per il canale, e, per l'evento di settembre, per tu, insomma, mamma mia, che roba, intanto, alcune delle novità, per l'evento di settembre, le potete già trovare sul sito, www.ilsalottodiscendone.eu, andate nella sezione eventi, e poi evento 2024, e lì, papapapam, papapapam, già vedrete, qualche ospite in più, e qualche, e in più, troverete anche, uno sconto nuovo, una partnership nuova, nella pagina partnership, per chi è socio dell'associazione, quindi, un altro vantaggio in più, per chi decide, di sostenere, l'associazione culturale, il salotto di Sheddon, puntata bellissima, questa, per quanto mi riguarda, non dico bella, per me è stata una puntata bellissima, questa, di acquisti fumettosi, perché, belle cose da far vedere, e poi, queste chicche di lucca, che, veramente, mi riempiono il cuore, io vi saluto, vi auguro un buon proseguimento di settimana, e noi ci vediamo, con le solite live, stasera i collezionisti anonimi, giovedì il salotto, non vi vedete il salotto, insomma, e tutto quello che arriverà, ciao ragazzi!